Vince la Roma, passa a Trebbisonda la squadra di Murigno nella prima gara ufficiale di questa stagione con il risultato proprio preciso che avevo pronosticato nel video precedente per chi mi segue lo avrà visto, ho zecchato proprio 1-2 ma mi devo scusare perché nelle formazioni ufficiali vi davo Gervigno fuori dal primo minuto non era in buone condizioni Gervigno, direi che all'ultimo momento Abci invece ha ritenuto di non privarsi dell'Ivoriano che però nel primo tempo abbiamo visto, sembrava il cugino quello che però non gioca a calcio di Gervigno proprio irriconoscibile, insufficiente, inadeguata la sua prestazione, buon per noi ha giocato praticamente in 10 nel secondo tempo l'allenatore turco ha inevitabilmente sostituito Gervigno con Cornelius che purtroppo ci ha punito in occasione di goto il pareggio, è venuto 4 minuti dopo il vantaggio di Lorenzo Pellegrini primo tempo dove la Roma mi è sembrata molto attenta, quasi impeccabile nella fase difensiva poca roba in attacco, Gagnolo si vede che è stato molto fermo non ha gli spunti ancora che sono la sua caratteristica a me sembra anche un pochettino non bloccato però un po' imballato ancora è anche un fisico importante, Gagnolo è un ragazzo alto 1,90 m probabilmente ha bisogno anche un po' di tempo per carburare ma la sensazione è che sia proprio, come si suol dire, arrugginito dopo tanta inattività ma è abbastanza normale tutto questo Pellegrini male, male al di là del gol, soprattutto nel primo tempo male è un giocatore che secondo me è un equivoco, un grande equivoco male direi anche Cristante, un giocatore, io non lo so se gioca fuori ruolo, se non lo so ma non sono questi i giocatori su cui si deve puntare per arrivare a fare le prime 4 io credo che la Roma avrebbe bisogno di un Ciaka al posto di Cristante che purtroppo non ti può prendere, ma è un giocatore simile è di un Pjanic al posto di Pellegrini Pellegrini può essere anche un ottimo cambio, può essere un ottimo primo cambio per il centrocampo ma non si può mettere sulle sue spalle la regia di una squadra che ha queste ambizioni parliamo anche un po' del Transbospor abbiamo visto una squadra mediocre, niente di che una difesa sicuramente scarsa che andava punita ancora di più ma nel gioco di Murigno si presta molta attenzione l'abbiamo visto anche questa terra prima la fase difensiva e poi quando si può colpire si colpisce come è puntualmente successo ma questa era una difesa che tecnicamente si doveva mettere proprio sotto già nel primo tempo quando la Roma ha fatto la partita ma poi nella fase d'attacco, ripeto anche Shomurodov, dico la verità, non è che mi sia piaciuto molto al di là del gol importante, anche della vittoria con questo calcio d'angolo, colpo di terza di Mancini sul palo Shomuro dove è stato più lesto di tutti a pochi minuti dalla fine a siglare di piatto destro il gol della vittoria che porta un risultato importante anche sul piano del morale che sicuramente mette la Roma nella condizione di aver ipotecato il passaggio alla fase a gironi di conference quindi la cosa è importante perché ci saranno tante partite ci saranno anche tanti incassi per fare un discorso abbastanza concreto io penso che noi nella nostra storia in Europa abbiamo vinto ben poco come sapete non abbiamo mai vinto l'Europa League figuriamoci la Champions le finali, le semifinali purtroppo lasciano il tempo che trovano abbiamo vinto una Coppa delle Fiere e un campionato anglo-italiano mettere un terzo trofeo europeo nella nostra bacheca che non è molto ricca di trofei secondo me è un inizio non bisogna però lasciarsi sfuggire queste occasioni perché sono delle piccole occasioni che possono come dice anche Murigno farti mettere in cascina dei titoli come dice lui e cominci psicologicamente a vincere cominci ad avere più autostima cosa hai fatto questa l'anno? ho vinto la conferenza non ho fatto un cazzo è diverso quindi la Roma chiaramente non è che ci si poteva aspettare una grande prestazione il 19 di agosto col caldo eccetera eccetera la stagione deve ancora cominciare molti giocatori sono anche imballati quindi non va valutata la prestazione sotto il punto di vista voglio dire squisitamente tecnico perché fisicamente per esempio come vi dicevo prima un giocatore mezzagnolo si vede che è in ritardo faccio un esempio anche Veretù per esempio è un altro giocatore che mi sembra in ritardo mi è piaciuto molto i bagni ma la difesa ha sicuramente superato la prova però abbiamo ci siamo fatti fregare ci siamo fatti fregare da Cornelius che nel video precedente avevo detto attenzione a Cornelius che se l'andate a rivedere a risentire dicevo sicuramente entrerà nella ripresa attenzione perché è un giocatore rognoso e forte sulle palle alte purtroppo è stato facile profeta questa gente che va marcata non sono certo dei fulmini di guerra non sono certo dei campioni non sono certo Ger Muller per fare un nome di un giocatore per in questo caso in questo modo ricordare questo grande centravanti tedesco che è mancato nei giorni scorsi all'età di 75 anni però Cornelius è uno che sulle palle alte fa valere la tua prestanza fisica la tua decisione e ci siamo fatti fregare su un'azione che raramente ormai ci vede c'è il cross ragionato proprio calibrato dalla destra in questo caso da parte dell'ex Roma Bruno Perez così al centro il centravanti non la deve mai prendere quella palla in quella maniera lì non gli si deve dare tempo modo e occasione di colpire quasi indisturbato in quella maniera quindi secondo me ci sono anche delle cose che non sono andate bene questa sera però ho visto una squadra che si è stata in controllo per gran parte della partita ha giocato un po' al gatto col topo ma è una caratteristica del gioco di Murigno abituatevi a questo approccio alle partite perché Murigno proprio le fa giocare così le squadre gioca al gatto col topo però sull'1-1 proprio poco prima che la Roma si impegnasse fosse proprio all'azione subito precedente il gol Murigno ha fatto riscaldare Carl Speres e Boja Majoral che poi effettivamente ha inserito pochi minuti dopo quindi questo è stato un segnale molto chiaro alla squadra metto due punte perché la partita io cerco di vincere neanche a farla apposta sul calcio d'angolo proprio Somuro che stava per uscire ha siglato il gol della vittoria quindi noi possiamo dire che fino alla fine Murigno che si è giocato molto bene anche le carte dei cambi nel finale per guadagnare tempo ha fatto entrare prima Tizio poi Caio e ha spezzato così il ritmo al Trasmo che cercava di venire avanti con il suo gioco a rozzo con il suo gioco antico il suo gioco superato anche questi palloni buttati in mezzo abbiamo concesso un colpo di testa nell'ultima azione su uno di questi cross e anche questa palla non andava concessa in quel momento della partita Rui Patricio si è disteso in tuffo sulla sua testa ha bloccato questo pallone una palla non facilissima sulla prestazione di Rui Patricio non lo so mi sembra un giocatore che presenta ancora qualche sbavatura comunque la sufficienza piena se l'è meritata senz'altro sul gol penso che non potesse fare niente l'errore del difensore centrale che si fanno anticipare comunque grande fiducia per quanto riguarda la gara di ritorno io non penso che avremo problemi non mi ricordo adesso il 25 o il 26 si gioca di agosto allo stadio olimpico con le nuove regole ricordate che non vale più il gol in trasferta che vale doppio quindi non vale più la regola del gol in trasferta che vale doppio quindi basta che il tratto fa un gol e siamo di nuovo pari 2 a 2 siamo praticamente quindi per non metterci in questa situazione è bene essere noi invece a segnare e poi andare in controllo non penso non penso che avremo problemi perché la difesa loro ripeto l'ho vista proprio molto vulnerabile molto incerta vigna non lo so se torna a spinazzola è meglio nel primo tempo ha sbagliato anche dei facili controlli un giocatore che ci ha corsa ma sinceramente non è che mi abbia convinto più di tanto rivediamolo rivediamolo vigna ma certamente ripeto spinazzola è tutta un'altra pasta è un peccato che ci sia infortunato perché per Mourinho spinazzola sarà un giocatore molto importante fin dall'inizio della stagione siamo un giocatore molto adatto al tipo di gioco che ha in testa Mourinho quindi si conclude così 1-2 per la Roma le reti di Lorenzo Pellegrini e poi il pareggio di Cornelius e la gol vittoria di Sciomuro dove ha poi unito alla fine che ha ribadito in rete un pallone respinto dal palo sul colpo di resta di Mancini direttamente sul calcio d'angolo colpisce al centro dell'aria Gianluca Mancini palla alla sinistra del potier che si incoscia sul palo la palla schizza verso il centro dell'aria il più lesso di tutti è campionato sono quella successiva Salernitana Roma altra partita la vince a tutti i costi e poi già un intrigante e anche insidiosa per certi verti Roma Sassuolo che è la partita che comincerà un po' a farci capire meglio qual è il valore di questa squadra continuate a seguirmi alla prossima Sassuolo